Grazie a tutti. E credo che anche grazie alla pubblicizzazione, al lavoro che è stato fatto dagli organizzatori, ma credo molto grazie al titolo e all'argomento, c'è stata un'adesione, abbiamo visto delle adesioni anche preliminari, di iscrizione molto elevate. Questo significa che non solo il tema è di grande attualità, ma che vi aspettate molto, non da me, ma da chi partecipa a questo panel e dal libro. Un libro, adesso darò subito, se siete tutti d'accordo, la parola all'autore così ci spiega perché l'ha fatto, quale intenzione ha, che obiettivi persegue, anche se conoscendolo, chi lo conosce sa quali obiettivi persegue. Ma io vorrei dire due cose di questo libro in apertura, presentarvelo a grandi linee e poi nei contenuti interviene Gianni. Il titolo dice già quasi tutto. Parliamo dell'innovazione, delle traiettorie dell'innovazione nelle rinnovabili e nella transizione energetica. Il titolo dice che stiamo lavorando con quest'opera a illustrare, ad aggiornare la materia. Però, in realtà, dentro il libro, chi l'ha già visto lo sa, chi l'ha già letto lo sa, c'è molto di più, nel senso che non c'è solo l'illustrazione dell'aggiornamento dell'innovazione tecnologica e di cosa promette l'innovazione tecnologica nelle rinnovabili, ma anche quali è, quali possono essere, quali saranno, a breve, medio e lungo termine, le possibili trasformazioni profonde che queste tecnologie portano con sé, che non sono solo il cambio della tecnologia. Invece di fare elettroni con il gas, li facciamo con il sole. Non è solo quello, ma è il mercato che cambia, è il mercato che cambierà, è il mercato fatto di imprese, fatto di modelli di business, fatto di contratti, di tipo di offerta di servizi che viene proposto alle imprese e ai cittadini. E anche di questo si occupa questo libro. Quindi di quanto oggi il mercato già stia spingendo in questa direzione, di quanto le imprese del settore siano più avanti di certe regolamentazioni, di certe regolazioni che le istituzioni e la politica fanno, ma di quanto siano ancora le potenzialità inespresse che questa innovazione tecnologica e di modelli di sistema energetico si stanno appunto affacciando nelle nostre società. Si occupa anche delle ricadute possibili, quindi, di tipo economico, organizzativo, ho detto, dei modelli, delle reti, eccetera. Si occupa anche delle criticità che questo porta con sé, perché come in tutte le transizioni c'è chi guadagna e chi perde, funzione e ruolo della politica, delle istituzioni è massimizzare i benefici, ridurre e minimizzare e compensare gli svantaggi, ridurre i feriti lungo la strada. Ma tra le criticità ce n'è una principale, che è il ritardo con cui il sistema istituzionale, la politica, almeno in paesi come il nostro, sta seguendo, mentre la Germania è già su un altro versante, sta seguendo questa trasformazione. Ritardi e resistenze, resistenza ovviamente, diciamo, del sistema energetico fossile, che vede ridursi i suoi spazi di mercato di azione e di profitto, e quindi resiste. Ritardi e resistenze che spiegano spesso, probabilmente, sono la base della inerzia della politica. Ci sono poi i colli di bottiglia di cui il libro si occupa, i colli di bottiglia legati al reperimento delle nuove materie prime, o comunque di materie prime, finora usate, non usate per questi scopi. le difficoltà di reperimento, le concentrazioni di possesso, di utilizzo di queste materie prime, di questi elementi, metalli, metalli rari e così via, le cosiddette materie prime critiche. Il problema delle reti, reti di distribuzione, reti di trasporto dell'energia, elementi critici che si affacciano sul versante dello smaltimento e riciclo delle apparecchiature che le fonti rinnovabili, le gine rinnovabili, si portano presso, dai pannelli fotovoltaici alle paleoliche, alle batterie delle auto. Il conflitto tra il vecchio e il nuovo è fortemente presente in questo testo, quindi è un testo che si occupa di tecnologia ma si occupa di società, ma non poteva essere diverso, visto chi l'ha scritto, Gianni Silvestrini, che di questo si occupa, e chiude con un appello al fatto che tutti abbiamo il nostro ruolo da giocare in questa grande trasformazione in corso, ma ovviamente le istituzioni politiche hanno il ruolo più grande di accompagnare e favorire una transizione che sia la meno costosa possibile da tutti i punti di vista, costi economici ma anche costi sociali, costi umani, costi ecologici e ambientali. Ecco, quindi è un testo che è agile nella sua dimensione fisica, ancora di più se lo leggete, se lo trovate in versione ebook, ma che è densissimo e io richiamo l'attenzione su due passaggi, su due capitoli scritti da due collaboratori che non sono Gianni e che riguardano, uno, il tema delle comunità energetiche, settori grandi in cui abbiamo tutti grandi aspettative, ma che ha ancora problemi rilevanti davanti a sé per la concreta attuazione e il capitolo se ne occupa bene, l'altro un capitolo straordinario di un grande vecchio del nostro settore che è G.B. Zorzoli, uno dove anch'io che non sono più tanto giovane mi faceva da maestro all'epoca perché lui era già, vabbè adesso ha quasi 90 anni, quanti anni ha? Ho compiuto 90 anni. Esatto, appena ho compiuto 90 anni. Scrive un capitolo di una modernità e di una visionarietà, ma non nel senso che usa sostanze, ma nel senso che ha visione di quale sarà il nostro futuro, il mercato, il sistema elettrico, il sistema energetico in generale, toccando tutti i temi di questa transizione. Un capitolo che io metterei nei programmi di studio di questa facoltà. Chiudo con due altre osservazioni. Il titolo si chiude, dice, l'importanza dell'energia rinnovabile oggi, ed è in colore diverso e in carattere grafico diverso. Quello oggi sembra voler dire, è un aggiornamento di ciò che sapevamo. Non è solo questo, perché quell'oggi in realtà riflette un'urgenza. E l'importanza oggi, proprio di questi tempi, di questi giorni, di questo tema, che ha a che fare con l'indipendenza energetica, ha a che fare con l'indipendenza politica dei nostri paesi, delle nostre società, ma anche con l'urgenza di intervenire di fronte ad altre emergenze, che non sono solo quelle della guerra, sono quelle, come sappiamo, del cambiamento climatico, dell'inquinamento dell'atmosfera delle nostre città e così via. Domani ci sarà lo sciopero del clima, 25 marzo, molti fanno così con la testa, lo sapete, quindi parteciperete, ma non è un caso che queste cose avvengano durante una fase in cui c'è la guerra per l'energia, perché, diciamolo, Ucraina e Russia combattono per altri motivi, molti motivi, ma il fatto per cui noi partecipiamo è l'energia. Se no, noi saremmo probabilmente in altre condizioni rispetto a questo conflitto europeo. E nell'introduzione Gianni fa una cosa per me straordinaria, credo per tutti noi che abbiamo una certa età, ripercorre 50 anni di battaglie per la transizione energetica a partire proprio dagli anni 70, grossomodo, proprio anzi dal 72, dall'uscita del primo grande report mondiale sui limiti della crescita, promosso da un grande torinese scienziato e manager d'impresa, Aurelio Peccei, torinese, grande visionario pure lui, non c'è più. E in questa breve introduzione, almeno, forse, magari i giovani potranno trovare un po' di storia. Noi troviamo la nostra storia dalla giovinezza ad oggi, ed è veramente emozionante. Con questo chiudo, ringrazio Gianni di essere venuto a Torino a presentarlo, naturalmente i nostri ospiti qui di essere anche chi ha partecipato alla stesura, a scrivere dei capitoli e chi è qui oggi per discuterlo, e gli do la parola per dirci perché l'ha fatto, con quale obiettivi e dove vuole attirare la nostra attenzione. Sì, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per essere qua. Mi fa molto piacere vedere tanta gente, tanti giovani, non solo perché siamo in una fase molto critica. In effetti, quando mi è stato proposto di scrivere un libro su questo tema, la riflessione riguardava soprattutto la importanza che hanno le rinnovabili per la transizione energetica rispetto alla crisi climatica. E sul fatto che non c'era abbastanza consapevolezza sul ruolo che possono giocare le fonti rinnovabili nel ridurre le emissioni di CO2, dei gas climateranti. Ora, in realtà, cosa è successo? Che nell'ultimo mese l'invasione dell'Ucraina ha reso doppiamente urgente questa riflessione. doppiamente urgente. E a me la cosa che stupisce, nei titoli giornali e anche in molti talk show, che quando si parla di come fare, come dovrebbe fare l'Italia per ridurre la dipendenza dal gas russo, e si dice, in gas liquefatto, si dice che si potrebbe aumentare l'importazione del gas con il TAP, dall'Algeria e così via. Qualcuno accenna le rinnovabili, ma senza convinzione. Devo dire che a livello politico, quello che ha dimostrato più, lo cita spesso, più convinzione, è Draghi. Non a caso, perché Draghi è un uomo europeo, al contrario della maggioranza dei nostri politici italiani, che non hanno capacità di visione nel futuro. Draghi, essendo vissuto in Europa, sa come in Europa si comprenda l'importanza della transizione energetica contro la crisi climatica fino a un mese fa e adesso anche rispetto a riuscire a ridurre la dipendenza, perché in effetti noi e la Germania siamo molto dipendenti. Allora, quindi la prima riflessione è questa, è doppiamente interessante oggi discutere di questo, anche alla luce del fatto che in molte trasmissioni, in molti articoli, addirittura c'erano articoli che dicono che questa crisi dell'Ucraina mette in soffitto la transizione energetica, cioè non hanno capito niente, non hanno capito niente. Devo dire, io comincio subito con una provocazione in positivo, perché c'è stata una provocazione negli ultimi giorni, e cioè elettricità futura, che è l'associazione che raggruppa le grandi aziende elettriche, come l'Ene, la 2A e così via. Il presidente è Re Baudengo, che è qui di fronte, Re Agostino, e io inviterei poi al tavolo della presidenza perché mi piacerebbe sentire un suo intervento, ha fatto uscire un rapporto al governo in cui dice noi saremmo in grado di fare 20.000 MW all'anno per tre anni, cioè 60.000 MW, e questi 60.000 MW consentirebbero di dimezzare l'indipendenza del gas russo. Allora, questo fa capire che in realtà si potrebbe fare anche in tempi abbastanza veloci, perché è una provocazione? Perché noi dal 2014 siamo flat, siamo calma piatta, installiamo meno di un gigawatt all'anno, quindi capite, da meno di un gigawatt a 20 gigawatt all'anno il balzo è incredibile, devo dire che molto più degli ambientalisti, perché l'Ega Ambiente, Greenpeace, dicevano che bisogna andare, il governo diceva 6-7 gigawatt all'anno, gli ambientalisti dicevano 10, allora ci hanno soppassato 20 gigawatt all'anno. Agostino, metti di qua, perché mi incuriosisce anche come è nata questa cosa, perché io quando l'ho letto ho detto, però malgrado il mondo delle imprese, dica noi ci siamo, e lo dice con consapevolezza perché Terna, il gestore della rete elettrica, ha detto che hanno ricevuto richieste di connessione della rete per 150 gigawatt, quindi il mondo dell'impresa, il mondo della finanza è pronto a partire, perché non parte? Perché ci sono tutta una serie di blocchi, innanzitutto i blocchi di tipo autorizzativo, il blocco di tipo autorizzativo è micidiale, e ci sono tante ragioni che hanno, ci sono delle responsabilità locali, delle regioni, a volte dei comuni, ci sono delle responsabilità a livello governativo, soprattutto c'è un responsabile che è il Ministro dei Beni Culturali, attraverso le sovraintendenze, che blocca tutto. Guarda, io quest'estate sono stato coinvolto da un signore che è molto impegnato, Marco Giusti, che conoscerai, dell'azienda municipalizzata di Verona, che voleva fare un piccolo impianto eolico, fatto veramente bene, e oltre all'evoluzione dell'impianto ambientale, ha voluto che si facesse, cosa che era prevista dalla regione toscana, un coinvolgimento dell'opinione pubblica attraverso incontri, dibattiti, così via, che sono durati tutta l'estate, e che mi ha fatto capire quale fosse il tipo di obiezioni che venivano portate avanti. Comunque, questo progetto ha avuto tutti gli ok di tutti i tipi della regione, così via, è stato bloccato dalla sovraintendenza. Sette pale. Cioè, non andiamo da nessuna parte se non ragioniamo. Cioè, il problema l'ho tratto nel libro il tema del paesaggio. Anzi, ho chiesto a un mio amico, che è proprio un esperto del paesaggio, di scrivere un capitolo, perché sapevo che questo è un tema che va affrontato con intelligenza, non si può trattare in maniera così con una spada. Il paesaggio è continuamente cambiato nel corso delle decine, centinaia di anni, migliaia di anni. Cambia anche adesso. Guardate, gli obiettivi che noi abbiamo al 2030, adesso il governo ha detto, perché poi non abbiamo visto ancora niente di preciso, che dal 38%, che è il valore che noi abbiamo in Italia di elettricità verde dal 2014 al 2021, sempre 38%, 37, 38 e mezzo, così via, dovrebbe arrivare a 72% al 2030. Quindi è un obiettivo, perché? Ma questo perché l'Europa ha messo degli obiettivi ambiziosi e quindi i vari paesi si adattano e cercano di fare. Però vorrei ma non posso, nel senso che dice che c'è l'obiettivo ma poi non si sblocca niente. Quindi un tema è quello dei ritardi dal punto di vista autorizzativo. Poi c'è anche un altro tema che sono le opposizioni che si dicendono a livello locale. A livello locale che tu voglia fare un digestore anaerobico o una paleolica o un impianto fotovoltaico, hai regolarmente un comitato che si organizza. Allora, da questo punto di vista a me fa molto piacere che Lega Ambiente, Greenpeace e WWF abbiano detto per la questione climatica, l'emergenza climatica è troppo importante, non possiamo dire tutti questi no e quindi si sono impegnati a fare un'azione presso i loro iscritti. Io dieci giorni fa ho visto Stefano Ciafani, Presidente di Lega Ambiente, è venuto in Sicilia e ha chiamato tutti i circoli Lega Ambiente della Sicilia per spiegare perché è importante spingere sulle rinnovabili. Quindi questa è una nazione molto interessante. Quindi questo è un tema dei perché pur avendo un elemento fondamentale che ci dice potremmo fare di più che è quello dei costi. Quando c'è stato il boom del fotovoltaico nel 2010-2011 allora i costi del fotovoltaico erano molto alti e gli incentivi erano molto alti probabilmente troppo alti perché chi era al governo in quel momento ricordo che in quel momento il governo era Berlusconi e il ministro dell'industria era Berlusconi perché in quel momento era vacante non è stato in grado come ha fatto i tedeschi di ridurre gli incentivi man mano che si riduciano i prezzi e quindi c'è stato un boom che ha dimostrato la capacità dell'Italia di fare migliaia di megawatt in poco tempo ma al tempo stesso è stato dal punto di vista incentivi eccessivo oggi la situazione è completamente diversa oggi un modulo fotovoltaico costa 10 volte di meno rispetto a 12 anni fa quindi si possono fare impianti senza incentivi io ho avuto un'escussione ieri con un gruppo inglese e dice noi in Inghilterra cominciamo a fare il fotovoltaico senza incentivi ora lo dicono gli inglesi fino a che non possiamo fare noi quindi gli economics sono molto importanti che spiegano perché le rinnovabili non le fermano mai più nessuno malgrado tutti gli ostacoli che ho appena detto e ce ne sono anche altri ma ormai sono talmente convenienti per appunto che l'industria dice ma noi le facciamo quindi sì certo ci potrà essere un paese come l'Italia in cui è più difficile ma in generale sarà una vera e propria una corsa un'accelerazione incredibile perché siamo in ritardo siamo in ritardo rispetto alla crisi climatica ma poi c'è questo tema dell'oggi della dipendenza dell'Europa dal gas della Russia che dobbiamo risolvere certo lo possiamo risolvere in qualche mese ma abbiamo visto che appunto se acceleriamo molto sulle rinnovabili possiamo dimezzarlo in tre anni beh è una buona cosa poi si possono fare anche altre cose si devono fare anche altre cose quindi questo è un tema per inquadrare perché è importante discutere in questo momento voglio toccare due o tre altri temi uno che ho trattato proprio in un capitolo perché nelle discussioni proprio sul nucleare c'è anche un capitolo sul nucleare il tema che viene fuori è sì la Germania vuole arrivare all'80% dei rinnovabili al 2030 dopo l'Ucraina ha deciso di alzare l'obiettivo la stricella e vuole arrivare al 100% dei rinnovabili nel 2035 ma il tema è ma come faccio l'ultimo miglio come faccio ad arrivare dall'80% al 100% come faccio a superare i problemi di una settimana in cui non c'è vento per esempio è successo e allora qui c'è un tema che è affascinante che è quello dell'accumulo di lunga durata che è un tema che stanno affrontando i tedeschi che stanno affrontando i californiani perché la California ha obiettivi altrettanto ambiziosi come la Germania e quindi sanno che non bastano le rinnovabili e non bastano gli accumuli ormai è sciocco fare un impianto fotovoltaico senza la batteria perché dovrebbe essere normale ma non bastano le batterie a litio con 4 ore di accumulo hai bisogno di fare 8-12 ore e poi anche giorni settimane perché può succedere nel libro cito un esempio che a me ha conoscito abbastanza che ci sono diverse soluzioni interessanti che stanno mettendo a punto in California una è su una vecchia centrale a carbone sotto c'è un grande liecimento di sale una miniera di sale e allora lì cosa vogliono fare un elettrolizzatore solare eolico produzione di idrogeno idrogeno compresso sotto nella miniera di sale in grandi contenitori grandi come l'Empire State Building e poi quando serve questo idrogeno in estratto si produce energia elettrica che si manda dove? A Los Angeles perché Los Angeles ha l'obiettivo ambiziosissimo 2035 quindi vuole essere certo di riuscire a raggiungerlo poi potremmo anche ragionare sul fatto che si potrebbero affrontare altre soluzioni in effetti in California ne usano anche altri con l'area compressa per esempio ma per dire che questo tema si sta trattando o power to gas in Germania ed è importante perché altrimenti abbiamo un'arma che non è sufficientemente affilata non arriva fino in fondo due cose finali una sul nucleare perché mi è capitato facendo dibattiti così via di giovani che in questo momento sentono queste sirene del nucleare e chiedono ma ha senso non ha senso la mia riflessione è di questo tipo il nucleare tradizionale quello che abbiamo in questo momento in Europa negli Stati Uniti in Cina in Russia il nucleare di questa generazione è il nucleare che sostanzialmente ha fallito ha fallito tanto che le stesse centrali esistenti hanno difficoltà a reggere la competizione con le rinnovabili e con i gas negli Stati Uniti nell'ultima Biden nell'ultima manovra che ha fatto ha messo 6 miliardi di dollari solamente alle centrali nucleari per consentire di continuare a esistere che se no non ce la facevano chiudevano e non voleva che chiudessero le nuove centrali nucleari e abbiamo gli esempi clamorosi Flammaville in Francia o il Quiloto in Finlandia in Georgia sono stati dei fiaschi clamorosi i costi sono triplicati rispetto alle previsioni i tempi sono stati invece di 6 anni sono stati 12 anni 13 anni 14 anni alcune non hanno neanche finito e quindi si lancia il small nuclear reactor facciamo i reattori in piccola scala allora io dico che bisogna fare la ricerca è giusto ma questi filoni di ricerca si vedrà se portano un risultato positivo verso la fine del decennio adesso a fine del decennio si saprà quanto costano se sono sicuri appunto la loro fattibilità e a quel punto il tema qual è che vediamo l'Italia se al 2030 occhio croce si mostra che ci sono vanno bene non costano poi così tanto cosa che in questo momento molti sostengono che è impossibile perché se io faccio una cosa più piccola normalmente le centrali nucleari hanno fatto progressivamente più grandi per ridurre per l'economia di scala quindi se la faccio più piccola è strano che dovrebbe costare di meno ma metti che costino di meno che sono sicuri e così via siamo alla fine di questo decennio vogliamo farlo in Italia c'è un grande movimento di opinione che vuole farlo si fa un referendum passa l'opzione si devono trovare i siti insomma prima di avere i primi chilometri nucleari reali in Italia li avremo il 2037 2038 o cosa del genere ma quella data noi di rinnovabili se abbiamo il 72% nel 2030 avremo l'85 90% quindi too late too costly and too late questo è il tema non per un problema di sicurezza di rischio poi c'è anche un problema di sicurezza di rischio perché l'altro giorno in Ucraina se quel missile invece di andare a centrare quel insediamento non è un deposito ma un centro di addestramento andava a finire sull'impianto o sull'impianto di raffreddamento non so cosa succedeva io non ne faccio un tema di sicurezza anche se so che esiste ne faccio un tema economico cioè oggi rinnovabili più accumuli sono in grado di garantire al mondo industrializzato di andare verso 100% di rinnovabili elettrici senza problemi la Cina invece può usare il nucleare perché loro non hanno posizioni locali quindi rischiano a fare in tempi molto più brevi rischiano a fare con costi anche più competitivi malgrado questo se guardate gli ultimi dieci anni della Cina non la potenza perché sarebbe troppo comodo confrontare la potenza eolica solare con quella nucleare ma proprio i kilowattora generati dal nucleare in Cina e solare eolico in Cina sono decisamente superiori a quelli del rinnovabile anche nella stessa Cina dove dovrebbe essere la condizione ideale quindi non mettiamo i tabù e così via però realisticamente consideriamo che una serie politica basata su efficienza energetica e rinnovabili è quella che ci può garantire una serie politica per contrastare i cambiamenti climatici che è un tema che purtroppo in questo momento stiamo dimenticando peraltro venerdì domani c'è lo sciopero mondiale sul clima quindi in tutte le città del mondo in Europa c'è la questione dell'Ucraina che è un po' offuscato ma forse anche accelerato perché la questione del clima è granissima finisco con questa immagine che era sulla copertina dell'Economist c'era un ring nel ring c'era il covid che prendeva pugni in umanità e fuori dal ring c'era un gigante che era emergenza climatica come dire adesso voi dovete combattere il covid ma sappiate che il grande problema per l'umanità per voi per i giovani è l'emergenza climatica che rischia di darci un pianeta assolutamente invivibile e quindi a maggior ragione rinnovabili first grazie se mi consentite se mi consentono diciamo qualcuno fare subito intervenire Agostino perché perché queste ultime cose che diceva adesso Gianni richiamano un fatto che virus emergenza climatica noi siamo noi l'umanità noi in Europa la civilissima Europa è riuscita ad aggiungere un'altra crisi in the frattempo nel mezzo che è quella della guerra e della guerra per le risorse Agostino tu rappresenti una grande l'associazione nazionale delle imprese che operano nel settore delle rinnovabili ma molte di queste operano a tucur nel settore dell'energia è pensabile che noi si riesca in tempi così rapidi come sarebbe necessario a ridurre la nostra dipendenza dal gas a rilanciare il settore cioè a aiutare il settore rinnovabile a diventare egemone naturalmente affiancando l'efficienza energetica risparmio e tutto quanto è necessario tu rappresenti le imprese che queste cose le fanno e che quindi si scontrano con gli ostacoli a cui faceva riferimento Gianni poco fa dici come la vedete qualche minuto per questo ecco vado velocissimo grazie grazie anche professori grazie a Gianni anche perché mi hai chiesto sono uno dei quattro che sulla quarta di copertina ha scritto due righe e devo dire è un libro molto importante che leggete e possibilmente se posso darvi un consiglio leggetelo due volte perché può ispirare mi auguro che ispiri in voi anche un desiderio di fare le cose adesso le start up come dire credo che tutti gli studenti vogliano fare una start up ma certamente aiuta un po' a sognare e sognare è importantissimo l'altra settimana da Vespa mi ha detto che io sono un sognatore mi ha proprio chiesto perché ero così contro al nucleare io in un'intervista di Enne Cronos ho detto a Vespa credo non abbia letto bene cioè non sono contro il nucleare speriamo in quello di quarta generazione o fusione ma certo quello di oggi l'hai raccontato benissimo ha dei problemi e quindi questo non mi piace molto e quando arriverà il prossimo sono d'accordo anch'io sarà troppo tardi e una precisazione elettricità futura rappresenta tutti i produttori di energie rinnovabili quindi abbiamo un produttore che il caso limite che la fa solo da carbone o prevalentemente non solo rinnovabili no scusate energia elettrica quindi anche da fonti fossili per cui il dibattito ovviamente è molto importante ma devo dire che rispetto a questa situazione rispetto anche al mio mandato io invece produco solo da fonte rinnovabile è stato molto chiaro lavoriamo per la transizione energetica quindi dobbiamo aumentare e per spiegare come e poi vi dirò rapidamente perché siamo convinti che sia possibile ma come è nata l'idea di fare una conferenza stampa e non era ancora scoppiata la guerra quando l'abbiamo prevista cioè la guerra l'invasione russa in Ucraina era per dare una risposta rispetto a dei provvedimenti del governo per mitigare il prezzo dell'energia e naturalmente togliere ai produttori di rinnovabili per darla ai consumatori adesso è troppo lungo la spiegazione del perché e per come ma sostanzialmente abbiamo detto noi qui dobbiamo dare un messaggio più forte dobbiamo far capire che è possibile produrre energia liberandoci dalle importazioni del gas principalmente e il mercato aveva già chiaramente detto che è più competitivo alla fine di gennaio i progetti che arrivano ad avere le autorizzazioni hanno biddato cioè hanno offerto un prezzo di cessione dell'energia elettrica per una durata di vent'anni e il prezzo è stato 65 euro a megawattora in quello stesso giorno in cui c'è stata quest'asta il prezzo dell'energia elettrica sul mercato quindi quello diciamo spot non legato da accordi di medio e lungo termine era 237 euro a megawattora ora capite che la differenza è abissale e circa 60 euro a megawattora e la media del prezzo insomma tra i 56 e i 62 è stata la media degli ultimi anni covid escluso che è scesa anche a 22 allora quindi ormai le energie rinnovabili sono competitive e probabilmente se avessimo più impianti autorizzati il prezzo di offerta scenderebbe ulteriormente adesso abbiamo un problema che voi credo leggendo i giornali sapete anche voi che nel frattempo il prezzo delle materie prime ferro acciaio rame tutti i componenti in cui sono fatti otterrare litio sono fatti diciamo gli impianti che realizziamo sono aumentati circa il 20% ma diciamo sostanzialmente le tecnologie avanzano e l'efficienza è molto maggiore quindi cosa abbiamo detto rispondiamo non andando a discutere su un provvedimento che riteniamo odioso ma rispondiamo dando una risposta al paese e la risposta al paese è dieci anni fa abbiamo realizzato in questo paese 11 gigawatt di potenza con tecnologie molto più primitive forse un po' hard ma diciamo gli aerogeneratori allora producevano un megawatt oggi gli ultimi che ho montato ne producono 5 e mezzo e i nuovi ne producono 6 e mezzo senza difficoltà e in modo molto più efficiente sia come diciamo potenza di picco e sia anche come rendimento quindi come produttività in megawattora quindi questo è assolutamente possibile l'unico vero problema sono le autorizzazioni le autorizzazioni Gianni le ha spiegate non vado oltre chi proprio dopo aver letto il tuo libro è curioso può andare sul mio blog rarebaudengo.it e trova tutta una serie di articoli che spiegano le problematiche ecco quindi la risposta è lo possiamo fare correttamente 60 gigawatt installati prudentemente produrrebbero 90 teravattore di energia elettrica che corrisponde a tagliare il 20% delle importazioni del gas quindi il 50% di quelle russe il 50% di quelle russe quindi questo è un un elemento molto molto importante e tra l'altro perché poi in realtà le rinnovabili le abbiamo sviluppate non perché non ci sia più carbone petroglio o gas così come Yamani nel 2000 aveva detto che il petroglio l'era del petroglio finirà non perché ci sarà più il petroglio e quella della pietra non è finita perché non c'erano più pietre ma grazie un po' all'intelligenza dell'uomo quindi effettivamente la cosa si può fare dobbiamo farla e voi che state studiando e che presto entrerete nella società credo avete una grandissima opportunità di agganciare così faccio un po' di promozione di indirizzo alle carriere di agganciare una transizione energetica che sarà entusiasmante per i prossimi 30 anni poi invece l'avremo fatta e quindi bisognerà inventarsi qualcos'altro però fra 30 anni così avrete l'esperienza per fare qualcos'altro grazie agostino allora visto che siamo sulle raccomandazioni ne do una anch'io oltre che essere ingegneri biologi tutte le qualifiche necessarie a stare dentro la transizione ce ne sono altre sono gli economisti gli scienziati politici perché sul tuo sito oltre che i dati che dicevi c'è anche quel famoso counter sui ritardi nell'emanazione di una serie di regolamentazioni tecniche e non che il legislatore ha detto di voler fare ma che non sta facendo e che anche quelli sono ostacoli e criticità se lo guardate è veramente un po' ghiacciante in realtà vedere perché sono dei mille giorni dei 5.000 giorni ho aggiunto anche il countdown cioè quanti giorni mancano per non passare nel ritardometro perché lui ha aiutato infatti il ministro ogni tanto mi scrive dice leggo con sgomento perché anch'io so ma dico basta che lo fai dice ma no ma è complicatissimo dico ci inviti una decina di persone le scelgo io non hai neanche quello ci mettiamo lì tre settimane usciamo con il 90% dei provvedimenti ma sei d'accordo o no? Sì sapendo timidezza incredibile sapendo appunto che da anni è da anni che sappiamo che dobbiamo ridurre i soldi che diamo a Putin ma continuiamo evidentemente a darglieli professor David Chiaramonti non solo vice lettore per l'internazionalizzazione ma anche esperto di tutto ciò che gira intorno alle chiamiamole bioenergie posso dire così autore di uno dei capitoli del libro a lui la parola grazie ovviamente porto i saluti dell'Ateneo e cercherò di dare un angolo di lettura che non duplichi quello che è già stato detto ma che aggiunga qualcosa soprattutto per la parte bio appunto l'anno scorso ci sono stati diversi interventi di analisi della pandemia uno di questi interessanti secondo me è stato del professor Stiglitz che diceva già abbastanza ridosso direi dell'inizio della fase pandemica che i paesi si sarebbero concentrati sulle filiere domestiche per il settore energia e per il settore food ma lo vedeva dal punto di vista dell'economista non tanto dal punto di vista né dell'ambientalista né tecnico faceva una considerazione siccome le energie rinnovabili nello specifico di cui stiamo parlando stasera sono per loro natura decentralizzate quindi sono un modo per reinvestire in quel momento si stava parlando di recovery fund ancora non era completamente definito l'assetto diciamo del piano di ripresa però era un modo per reimpiegare internamente quelle risorse ed infatti è una cosa per chi lavora nel settore abbastanza ovvia il fatto che ambiente e indipendenza o sicurezza energetica come la vogliamo chiamare vadano insieme nel caso delle rinnovabili è abbastanza ovvio perché è per la natura stessa dei sistemi che andiamo ad attuare il fatto di essere decentralizzati e distribuiti e quindi di coinvolgere il territorio e di non arrivare con un tubo che viene magari da chissà dove quanto coinvolgere appunto gli attori le imprese e quindi far ricadere sul territorio anche quei benefici di quelle attività nel campo della bioeconomia questo è particolarmente rilevante non a caso si parla di filiere bioenergetico della bioeconomia perché veramente si va dal campo fino al kilowattora che esce ma anche molto altro ed era questo che volevo un attimo aprire specificatamente per questo per questo elemento della parte bio cioè noi beviamo energia mangiamo energia l'energia in tutte le cose che facciamo e viceversa per fare energia abbiamo bisogno di acqua abbiamo bisogno di tante cose ed è il famoso food feed energy water nexus su cui ormai da anni in Europa si studia cioè la connessione tra questi elementi in altri termini si va molto al di là del puro aspetto tecnologico io spesso agli studenti dico non ragionate da ingegneri nel senso andate oltre l'aspetto tecnologico che ovviamente c'è ma c'è anche molto altro Gianni non ha toccato il tema dei fertilizzanti che sono connessi al gas naturale ma che noi potremmo benissimo produrre con gli impianti di gestione aerobica in gran parte io ormai in un impianto di biometano più che guardare il metano che è una cosa sodata ci lavoriamo magari per fare idrogeno per fare cose particolari ma quello che interessa è il digestato che esce una materia ricca di carbonio ricca di nutrienti che noi andiamo a prendere e produrre producendo la previa fossile da fuori non ha senso quanto più ne possiamo produrre internamente peraltro creando occupazione stabile di lungo termine tanto meglio non a caso il Green Deal ha un elemento che viene citato troppo di rado secondo me che è il no one left behind cioè questa transizione che è urgente è assolutamente necessario mettere in piedi in tempi molto rapidi per questioni ambientali che sono già state ampiamente discusse però deve essere anche un motore di sviluppo ed è naturale che sia perché ripeto questi sistemi per loro natura vengono prodotti magari pensate che un impianto di gestione aerobica credo per la totalità venga prodotto sicuramente in Europa ma per oltre il 90% sono manifattura italiana e questo vuol dire che in fase di predisposizione dell'impianto di esercizio dell'impianto lungo un arco di tempo importante questo genererà delle ricadute e farà dei prodotti che noi consumiamo lo dico perché non è un caso se il Politecnico di Torino è stato il motore di una fondazione sul suolo che uno può chiedersi come mai un'accademia tecnologica va a costituire una fondazione che si occupa di suolo proprio perché c'è questo tipo di legame in particolare per queste filiere legate alla parte bio che collegano la generazione di energia i prodotti che escono e tutto l'aspetto poi dell'economia che gli gira intorno con ciò sono concetti non banali da spiegare spesso io trovo una certa difficoltà tu citavi le autorizzazioni in questo momento noi siamo coinvolti in un progetto dove si ha la digestione anaerobica della frazione organica che produce un digestato che va a fare il biociari la CO2 viene liquefatta risponde al regolamento europeo fertilizzanti ultimo che da luglio di quest'anno entrerà in vigore nonostante ciò è un'impresa riuscire a comunicare nonostante addirittura anche gli enti preposti in questo caso la regione siano entusiasti diciamo dello schema di scala dimensionale giusta eccetera però rimane il fatto che andare a inserire questo tipo di progetti è molto complesso un'altra cosa che è stata citata e posso fare un esempio concreto è quello degli accumuli è molto interessante questo in questo momento noi per esempio come Politec siamo coinvolti nella riconversione di un'area industriale molto complessa molto impattante in cementificio e la sfida è mostrare che con le rinnovabili e con la bioeconomia quel sito industriale può essere riconvertito ad altre attività tra le varie attività che si sono proposte c'è un'azienda americana che si è proposta per andare a realizzare un impianto di produzione di sistemi di accumulo che non utilizza materiali critici di terre rare ma essendo di tipo stazionario non ha il tema del peso come prioritario quanto della sostenibilità del sistema e giusto per dare un aspetto concreto significa impiegare 120 persone in un'attività di questo tipo che è accoppiata alla rigenerazione elettrica da fonte rinnovabili per regolare la rete quindi il mio messaggio è non c'è solo tecnologia in questo che è assolutamente urgente ma questa transizione nasconde o offre come vogliamo dire delle opportunità fantastiche che vanno ad impattare su tantissimi altri settori dall'agricoltura all'economia e a tutto quello che li gira intorno sostanzialmente ricordiamoci che in questo momento siamo in un momento dove dati alla mano le rinnovabili stanno andando a sostituire il gas naturale invece del carbone che era almeno la speranza della transizione di partire spostando quello più impattante e tenere un vettore di transizione però vedete anche su quel metano si può lavorare noi stiamo lavorando su dei progetti dove invece di andare a fare per produrre idrogeno lo steam reforming dove poi ci troviamo questa CO2 che da qualche parte va messa si può provare ad andare a fare il cracking di questo vettore bio ovviamente il che vuol dire andare a produrre carbonio e carbonio è un prodotto e idrogeno questo dà anche un altro vantaggio che la famosa riduzione di costo dell'idrogeno oggi siamo attorno ai 3,5 4 dollari al chilo dovrebbe scendere attorno al dollaro dollaro e mezzo al chilo che è un passaggio importante può essere supportata dal valore del carbonio che noi in questa maniera andiamo a generare che può essere impiegato nel suolo nei materiali in mille impieghi di tipo diverso quindi c'è anche molto spazio per la ricerca in questo settore della transizione la cosa e con questo concludo però per me più importante è che dobbiamo essere concreti e mettere per terra questi progetti cioè non c'è più tempo per aspettare rimandare ulteriormente un'azione e su questo mi trovo d'accordo con chi ha preso la parola prima di me c'è bisogno di fare uno scatto in avanti e di avere un'ambizione tanto più ripeto perché questa ambizione genera economia e questo è un fattore che forse dovrebbe avere l'attenzione che non ha ancora volevo collegarmi proprio a quest'ultimo riferimento alla digestione aerobica e alla produzione di biometano innanzitutto perché la Commissione Europea ha deciso di raddoppiare l'obiettivo della produzione di biometano nel 2030 proprio a seguito dell'invasione dell'Ucraina e quindi biometano invece di metano che viene importato ma secondo perché anch'io credo che la cosa più interessante del biometano so che tu ci lavori è il fatto che col digestato io ottengo due risultati che sono stati accennati uno che è quello che io utilizzo dei fertilizzanti naturali in questo momento noi abbiamo anche un problema con l'Ucraina e la Russia che ci mancano i fertilizzanti e in questo modo invece io utilizzo fertilizzanti naturali che derivano appunto dal digestato secondo altrettanto importante che io aumento la concentrazione di carbonio nel suolo io ho visto dei impianti di gestione in Sicilia che è una zona interna di Sicilia che si sta tutta desertificando allora in questo modo io posso far ritornare fertile dei terreni che sono invece a rischio di abbandono quindi come vedete i temi poi si toccano tutti sono estremamente interessanti e si ha la possibilità di offrire delle risposte che vanno da quella energetica a quella agricola a quella della fertilità dei suoli alla riduzione del CO2 perché appunto uno dei temi è promosso dai francesi il fatto di aumentare la concentrazione di carbonio nel suolo ogni anno 5 per 1000 ecco questa è una soluzione ecologica naturale molto bella che fa parte di questo processo naturale promosso dall'uomo un dato di raggiunto volevo solo dare un numero noi abbiamo circa 8 milioni e mezzo di ettari solo nei paesi del Mediterraneo in corso di desertificazione conclamata per conclamata intendo che ci sono le mappe GIS del JRC che collocano tutte queste aree noi in questo momento in un progetto europeo stiamo facendo sperimentazione in Spagna proprio con un terreno ricostituito con compost e biochar nel suolo su cui stiamo facendo rotazioni attenzione energetiche e alimentari orzo e camelina quindi quel terreno che non produceva più può produrre per il food and feed e per l'energia però 8 milioni e mezzo di ettari sono tantissimi considerate che grosso modo per il riferimento tutto il biodiesel un po' di anni fa ora gli ultimi dati non li ho presenti ma tutto il biodiesel prodotto in Europa era un equivalente di 4 milioni e mezzo di ettari di colza stiamo parlando di 8 milioni e mezzo di ettari solo portogallo spagna italia grecia croazia cipro mi sembra sono 7 paesi ultimo dato la previsione della previsione è una previsione la più pessimistica però dell'agenzia europea per l'ambiente sui dati del jersey da meno 50% di produzione di grano mais e barbabietola al 2050 ora se anche fossi il 20 e non il 50 è un numero enorme è tantissimo quindi collegare energia suolo acqua è una necessità non è che stiamo come dire facendo della filosofia è proprio è proprio necessario Gian Vincenzo avete capito questa è autogestione è l'autogestione del panel ma a me va bene è un panel molto proattivo rispetto a chi non la vuole io ringrazio ma purtroppo l'avevo detto che devo scappare alle 19 però quello che volevo dire rispetto al biometano è che noi oggi ne produciamo in Italia meno di mezzo miliardo di metri cubi noi consumiamo 76 miliardi di metri cubi di gas all'anno per darvi un'idea ha un potenziale al 2030 di 10 miliardi di metri cubi quindi evidentemente sarebbe una produzione importante è uscito una bozza di decreto di decreto di decreto ministeriale per il nuovo regolamento che ha bloccato completamente il settore perché ci sono delle incongruenze che lo rendono non viabile quello che è successo è che le banche hanno scritto tutti quelli che stanno costruendo questi impianti e dice siccome da chi non allaccia entro la fine di quest'anno non sappiamo che cosa succederà blocchiamo tutte le regazioni degli stati di avanzamento quindi ovviamente è un caos generale sono tre mesi che sei associazioni compreso elettricità futura stanno lavorando su questo tema ma non ne siamo venuti a capo ancora ecco questo è per dirvi le problematiche che si vivono non solo in Italia ma certamente in Italia di più però non fatevi scoraggiare perché quando ci sono tante cose che non vanno ci sono anche più opportunità volevo anche darvi il lato positivo delle cose davvero grazie grazie Agostino grazie grazie per aver partecipato così a una partecipazione alla Sminit grazie grazie beh Gianvincenzo Frecastoro già professore di questa università oggi è merito quando noi parlavamo di queste cose con ruoli diversi nel primo decennio di questo millennio però tutte queste cose non stavano ancora accadendo eravamo ancora molto più indietro parlavamo di qualche punto percentuale di rinnovabili parlavamo di come fare a far introdurre le rinnovabili quindi noi abbiamo sentito e lo dico soprattutto perché ci sta ascoltando un sacco di elementi critici di analisi di denunce di ostacoli di problemi e di criticità però se noi guardiamo anche solo a 12-15 anni fa siamo in un altro mondo cioè noi oggi abbiamo il 38% in Italia purtroppo fermi da anni ma di elettricità rinnovabile abbiamo un settore edilizio dell'efficienza energetica che è esploso addirittura con distorsioni per eccesso di spinta eccetera però quello è e stiamo ragionando su delle stiamo facendo dei ragionamenti circolari come quelli che ci faceva presente che era molto poco fa che io almeno 15 anni fa non sentivo che dici sono d'accordo da pensionato da pensionato che è uno dei pochi vantaggi di invecchiare che se si vive abbastanza a lungo si vede il risultato si vede ogni tanto qualcosa che si avvera adesso io conosco Gianni Silvestrini forse da 40 anni lui ha sempre lavorato in questo settore io ho più che altro lavorato sul risparmio energetico ma negli ultimi 20 anzi proprio 22 anni fa ho iniziato il primo corso sulle fonti rinnovabili di energia al Politecnico in mezzo se posso dire a come dire una certa misto di diffidenza e quasi derisione da parte di tanti colleghi ok perché non esiste mi guardavano e dicevano ah sì il sole che ride Atomcraft Nein Danke queste sono cose pittoresche ma non succederà mai niente di tutto ciò nel 2000-2001 Anna quindi vedere adesso poter leggere spogliare questo libro che è per certi versi una marcia trionfale anche se poi alla fine lo stesso autore la chiama una corsa a ostacoli se non ricordo male è stato un gran piacere perché si sono avverate tante cose che raccontava adesso Beppe il risparmio energetico oppure con le sue distorsioni ma le fonti rinnovabili forse ancora più vistosamente allora volevo dire ho letto con entusiasmo e con passione questo libro perché si vede quante cose si sono effettivamente avverate quante ancora potremmo vederne se abbiamo la fortuna di vivere un altro po' e ho visto con piacere ci sono 15 capitoli in questo libro che si affrontano non soltanto gli aspetti trionfali ma anche i problemi per esempio c'è un intero capitolo dedicato al paesaggio perché lo sappiamo le fonti rinnovabili grazie a Dio sono diluite altrimenti saremmo inceneriti dagli raggi del sole spazzati via come fuscelli o come dannati della divina commedia dal vento e invece grazie al fatto che sono come dire miti queste energie sopravviviamo benissimo però per raccoglierne tanta quanto ne serve per la nostra civiltà moderna abbiamo bisogno di enormi superfici quindi questo come dire è stato importante riuscire a rompere un pochino certe perplessità ma continuano ad essercene ogni volta che si mette un impianto eolico o qualcosa c'è qualcuno che urla al paesaggio agli uccelli ammazzati dalle pale e per le campi coperti di pannelli fotovoltaici lo stesso quindi Gianni ha affrontato anche questi problemi come oltre a quello del paesaggio per esempio il problema del riciclo e non solo del famoso fotovoltaico che oramai PV cycle eccetera si sa che si riesce a riciclare il 95% praticamente dei materiali di cui è fatto ma anche delle paleoliche che vanno a finire in cemento ma anche delle batterie al litio cioè i materiali possono far parte di un ciclo virtuoso e in buona parte essere riutilizzati e così via ce ne sono tante di questioni come dire delicate parliamo dell'accumulo non parliamo dei colli di bottiglia delle materie prima sono tutti evidenziati questi problemi con molta onestà intellettuale non è tutto rose e fiori indubbiamente e da questo punto di vista voglio dire scusa ti interroppo Vincenzo su una cosa Gianni però io da quando lo conosco non nasconde i problemi ma li affronta sempre per dire come si possono risolvere come si stanno risolvendo e questo è il grande interesse di questo libro c'è scritto il problema ma anche le soluzioni sono tutte ecco quindi questo è l'aspetto della complessità che non c'è niente di difficile è un libro che si legge molto bene che però presenta tutti gli aspetti del passaggio alle fonti rinnovabili di energia senza dimenticare nessuno di quelli veramente più importanti è anche un libro molto attuale si arriva addirittura all'aumento dei costi dell'energia e del gas recentissimi non ha fatto a tempo a metterci la guerra però credo che per un pelo avrebbe potuto fare qualche dire qualche bella butada tipo per esempio il rubinetto del sole non ce lo chiude nessuno non abbiamo bisogno di umiliarci o di stare al freddo per dare come dire per non dare soddisfazione a chi in qualche modo ci ricatta con aprendo chiudendo il rubinetto del gas il rubinetto del sole sì ci può essere un eclisse di sole ma dura 8-10 minuti e poi il sole ritorna di qua magari di là però c'è sempre questa è una cosa che consola consola molto ecco però volevo anche mi spiace non sarò l'ultimo a parlare spero ma chiudere anche con alcune note diciamo ah benissimo che non sono necessariamente positive io vedo a livello italiano per esempio una certa improntitudine giustamente Beppe diceva lui fa vedere le soluzioni Gianni per esempio l'accumulo l'accumulo è fondamentale perché al di là della diluizione che può comportare danni paesaggistici vabbè però in qualche modo si risolvono e l'intermittenza delle fonti cosiddette non programmabili come l'eolico e il fotovoltaico sulle quali puntiamo più di tutte anche per carità le biomasse però il grosso sviluppo che dovrebbe portarci a cos'era al 72% nel 2030 è quasi tutto a carico del fotovoltaico e dell'eolico e sono entrambe fonti di energia non programmabili noi possiamo non programmabili non vuol dire che non sono prevedibili perché noi possiamo sapere se domani ci sarà il sole oppure no e se tirerà vento oppure no ma non possiamo fare niente per cambiare di un epsilon la situazione meteorologica di domani o dell'anno prossimo questo deve essere chiaro questo è un grosso come dire intrinseco collo di bottiglia soprattutto se dovremmo contare soprattutto su queste due fonti per più che raddoppiare il ricorso alle rinnovabili di qui al 2030 allora questo dell'accumulo è un punto fondamentale l'accumulo si può come dire questa mancanza di simultaneità fra la domanda e l'offerta la domanda di energia e l'offerta di energia questo sfasamento imprevedibile oltretutto si può risolvere si può risolvere con l'idrogeno si può risolvere con le centrali di pompaggio che noi abbiamo e che sono fortemente sotto utilizzate in Italia anche perché le centrali di pompaggio sono nel nord Italia dove ci sono le montagne e l'acqua e le fonti rinnovabili di energia solo e il vento sono nel sud Italia quindi vuol dire anche infrastrutture vuol dire anche pensare a strutture di interconnessione internazionale che permettano come fa per esempio la Danimarca la Danimarca ha un'altissima incidenza dell'energia sostanzialmente solo eolico mi pare che sia quasi il 50% di energia già solo con l'eolico però tutte le volte che ha un eccesso lo vende ai paesi scandinavi o alla Germania o alla Norvegia ecco quindi ha uno sfogo questi rapporti internazionali non si creano dall'oggi al domani così come non si creano dall'oggi al domani le batterie di ultima generazione o i sistemi di accumulo ad aria compressa o le centrali di pompaggio magari con acqua marina perché si parla anche di quelle quella al sud d'Italia c'è in altre parole esistono tutte le tessere di questo mosaico che in un cambio epocale di paradigma possono ricomporre un sistema energetico che tenga in piedi l'economia di un paese che non è ancora di terzo mondo come l'Italia ma queste tessere qualche d'uno le deve ricomporre nei tempi giusti non si può lasciare mettere raddoppiare per esempio la patenza fotovoltaica si potrebbe raddoppiare in un anno ma se noi non contemporaneamente sviluppiamo dei sistemi di accumulo che gestiscano lo sfasamento notte e giorno e magari anche quello stagionale sprecheremo un sacco di energia e finiremo per rimanere delusi quindi le cose vanno ci vuole una come dire una regia che io non vedo nel nostro paese devo dire molto francamente Parigi è stato sei anni fa dicembre 2015 sono più di sei anni non è cambiato niente 197 paesi hanno firmato un accordo che prevedeva un impegno ad azzerare le emissioni entro il 2050 sono passati sei anni e non è stato fatto niente il covid ha bloccato ha ridotto del 6% i consumi di energia mondiale nel 2020 nel 2021 è cresciuto del 6,1% il consumo di energia il famoso disaccoppiamento fra il PIL il tanto come dire utilizzato anche forse troppo PIL e i consumi di energia che sarebbe stato il sogno cioè si può vivere e produrre anche senza consumare energia non c'è stato è sceso il PIL è sceso il consumo di energia è risalito il PIL è risalito pari pari anzi un po' di più il consumo di energia quindi sia a livello nazionale che a livello internazionale non parliamo della questione demografica perché io scusate mi deprimo noi siamo qui in Europa siamo oramai marginali già adesso ma fa 50 anni non conteremo più niente vista la diciamo la situazione demografica del nostro paese non voglio fare un discorso che potrebbe essere interpretato male e far supporre chissà quale atteggiamento magari razzistico ma i soli bambini da 0 a 5 anni della Nigeria sono più numerosi di tutti i bambini europei della stessa fascia di età inclusa la Russia e il Regno Unito della sola Nigeria sono 36 milioni di bambini da 0 a 4 anni fino a 4 anni 11 e allora è altrove che sarà il mondo allora noi ci preoccupiamo tanto in Europa devo dire siamo stati un po' quelli che hanno guidato questa transizione ecologica certamente non sono stati gli americani ma nemmeno i russi e nemmeno i cinesi siamo stati un po' ma noi siamo marginali sempre di più gli altri paesi vorranno conquistare ne hanno il diritto il benessere di cui non hanno mai goduto anche questi bambini di 36 milioni di bambini fra 0 e 4 anni e 5 anni della Nigeria avranno diritto di avere l'acqua calda di avere l'elettricità di avere dei computer l'aria condizionata eccetera io non posso essere positivo perché il principale fattore di crescita delle emissioni di CO2 è quello demografico alla fine di tutto quindi come dire vedo davanti a noi un futuro come dire un po' incerto e cui bisognerebbe cercare di coinvolgere un pochino di più i nostri politici ma anche soprattutto quelli di tutti gli altri paesi perché altrimenti le rinnovabili da sole senza una regia da una parte e senza una strategia di penetrazione in tutti i paesi in via di sviluppo non servono a raggiungere l'obiettivo fondamentale che è quello di ridurre la temperatura e l'aumento di temperatura sulla terra con tutti annessi e connessi desertificazione ghiacci che si sciolgono eccetera domani controllate se se lo vedete alla manifestazione domani controllate se lo vedete l'ho incontrata alla manifestazione perché dopo le cose che ci ha detto è obbligato esserci domani domani mattina che ora è l'appuntamento in piazza Arbarello mi sembra c'era Gianni che voleva dire ancora una cosa dopodiché io mi scuso col professor Sergio Olivero che pazientemente ci sta attendendo collegato da dove non so in questo momento esattamente ma ha voluto esserci anche collegato sto per dargli la parola solo una battuta Gianni Sì solo una battuta giustamente Fra Castoro ha parlato del tema paesi in via di sviluppo e così via faccio solo un accendo perché spesso si dice ma sì ma l'Europa non conta niente l'Europa solamente l'8% e così via in realtà le dinamiche a livello mondiale no ragazzi se i prezzi delle rinnovabili sono crollati l'hai anche detto tu è grazie all'Europa che dopo il protocollo di Chioto ha definito gli obiettivi si è creato un mercato e i prezzi sono andati giù l'Italia in particolare l'Italia in particolare esattamente ma aggiungo una cosa ancora in più noi abbiamo avevamo un miliardo di persone che non hanno accesso all'energia elettrica adesso sono calate 800 milioni adesso sono 600 o qualcosa una delle opportunità che hanno offerto le rinnovabili è proprio il fatto che in villaggi che sono a 400 km nella linea elettrica ma mai avrebbero avuto un'energia elettrica se non appunto grazie delle microreti in cui ciò solare soprattutto in alcuni casi anche un po' di eorico in alcuni casi in cui c'è un salto dell'acqua ma generalmente è fotovoltaico accumulo e microreti quindi di fatto stiamo dando una grossa mano anche a far uscire da questa situazione terribile di non avere accesso all'energia elettrica significa non poter bambini e la signora poter leggere e studiare non poter conservare in un frigorifero le medicine non poter soprattutto pompare acqua e quindi irrigare bene grazie e grazie a Sergio Olivero che ci sta attendendo con pazienza adesso gli diamo la parola direttore dell'Energy Center come ha sentito come abbiamo sentito tutti questo tema è un tema ovviamente non c'è bisogno di dirlo trasversale tocca tutti i temi e ha un grande bisogno di ricerca ha un grande bisogno di mandare avanti le due gambe mettere a terra le conoscenze che abbiamo quindi industrializzazione economia scalabilità eccetera e dall'altro continuare con la ricerca perché i problemi che abbiamo di fronte sono anche tanti chi meglio dell'Energy Center del suo direttore ci può parlare di questo grazie grazie dell'introduzione si sente si si sente grazie due precisazioni necessarie non sono direttore dell'Energy Center non sono responsabile dell'unità Business and Finance Innovation non sono neanche professore del Politecnico sono un ingegnere elettronico prestato all'energetica comunque ma l'abbiamo promossa qui stasera se lo goda beh allora in questo caso ottimo allora fatta questa premessa io mi occupo di comunità energetiche comunità energetiche che sono sostanzialmente una intuizione secondo me strategica rivoluzionaria che promuove la complementarietà fra i profili di produzione rinnovabile e i profili di carico quindi sostanzialmente si sposta l'incentivazione si sposta quindi la premialità dalla produzione di energia rinnovabile alla capacità di produrre l'energia e contestualmente consumarla quindi come dire si premia il comportamento virtuoso spostando l'enfasi dall'azione del singolo all'azione del singolo per la comunità quindi questo ha un valore intrinseco c'è una direttiva europea la direttiva REN2 che regolamenta le comunità dell'energia rinnovabile ora ho ascoltato con attenzione gli interventi che ovviamente condivido l'esistenza di problematiche di situazioni che fremano al tempo stesso però mi permetto di come dire visto che sono l'ultimo relatore forse dare una nota di ottimismo e spostare l'attenzione dagli aspetti tecnici che sono condizioni necessarie agli aspetti gestionali organizzativi in generale di governance energetica le comunità energetiche sono soprattutto uno strumento con cui gestire la transizione energetica spesso vengono banalizzate si dice che le comunità energetiche sono la ripartizione di un incentivo che viene erogato sulla base dell'autoconsumo che il singolo socio della comunità realizza le comunità energetiche comunità di energia rinnovabile le CER sono anche questo ma sono soprattutto il volano per lo sviluppo delle fonti rinnovabili lo stiamo vedendo praticamente si è partita dalla piccola realtà di Magliano Alpi il 18 dicembre del 2020 la cosa si è riprodotta nella comunità collinare del Friuli dove la regione Friuli Venezia Giuli ha erogato 5,4 milioni di euro per realizzare nel giro di due anni delle comunità energetiche sostanzialmente si sta vedendo proprio si sta percependo un boom della richiesta di installazione di nuovi impianti questo ancora prima che l'emergenza internazionale comportasse un aumento della domanda di impianti a forza di impianti quindi le CER sono uno strumento soprattutto organizzativo gestionale che induce lo sviluppo di impianti e quindi produce come effetto fondamentale un aumento della produzione rinnovabile ci sono le comunità hanno anche il grosso merito di la grossa potenzialità di poter favorire quella che è tutto il mondo della mobilità elettrica perché è noto che se domani mattina gli italiani comprasse un'auto elettrica pretendessero di caricarla la rete ma se riusciamo a territorializzare la produzione di energia e a consumarla contestualmente riusciamo anche a rendere disponibile quella ricarica che poi diventa fondamentale per favorire la immobili i modelli di business associati alle comunità energetiche sono allo stato attuale autosostentanti non è così necessario che esistano obiettivi che ci siano incentivi è stato anche accennato precedentemente l'incentivo aiuta ma non è più strettamente necessario di fatto considerato anche costo nonostante questo le comunità energetiche saranno beneficiari di 2,2 miliardi di euro da parte del PNRR e saranno risorse che si configurano come finanziamenti a tasso zero su 10 anni quindi modelli di business che si trasformano in business plan già intrinsecamente renditivi che grazie a queste iniezioni di liquidità a costo zero avranno un'ulteriore accelerazione quindi le comunità energetiche stanno diventando uno degli strumenti che sia lato a livello di comunità ma anche a livello di aziende ormai non passa giorno in cui i gruppi di aziende non ci chiedano supporto nella definizione di strategie coerenti di costruzione di comunità energetiche perché hanno capito che è un modo per gestire e governare la transizione e dare anche un senso compiuto a un coordinamento che spesso manca un'ultima cosa che voglio dire le comunità energetiche sono anche di fatto un giacimento di dati gestito attraverso piattaforme digitali ICT ma soprattutto IoT quindi Internet of Things ha un ruolo importante l'intelligenza artificiale quindi questo giacimento di dati gestiti in modo coerente rappresenta anche la possibilità di configurare strumenti finanziari innovativi perché faccio un esempio pratico elettrificando un carico termico come quello di un condominio residenziale nell'area tolinese diciamo una quarantina una cinquantina di appartamenti si può passare da quindi con elettrificazioni intendo un cappotto efficiente a cui si associa un impianto fotovoltaico ed una pompa di calore concettualmente da questo punto di vista riusciamo dati alla mano ad avere una riduzione delle emissioni di CO2 che è la sua di consumo di gas da 40.000 metri cubi a 4.000 quindi una riduzione che arriva al 90% che si traduce in un condominio medio nell'area tolinese fino a 80 tonnellate di CO2 ora considerato che una tonnellata di CO2 valeva a livello di trading 25 euro non tanti mesi fa si sta avviando verso gli 80 probabilmente crescerà vuol dire che ogni condominio nel momento in cui riesca a contabilizzare la riduzione delle emissioni CO2 realizza una richiesta finanziaria quantificata in diverse migliaia di euro non facendo assolutamente nulla la comunità energetica essendo di fatto un database coerente configurabile a livello metropolitano urbano può mettere in rete questa capacità e quindi trasformare quelle che sono come dire delle interessanti potenzialità accademiche in una sorta di giacimento informativo di dati valorizzabili da un punto di vista finanziario ultima considerazione si è parlato di paesaggio il paesaggio l'ECER l'energia rinnovabile hanno un ruolo nella narrazione per la transizione energetica perché in fondo si può pensare di salvare i borghi da un'installazione sconsiderata di impianti a fonte rinnovabile considerato che con il recepimento definitivo della direttiva RE2 decreto 199 la fine dell'anno scorso nella seconda metà dell'anno avremo una regola che permette adesso un analito in modo non troppo scientifico però di realizzare gli impianti fotovoltaici come una fonte rinnovabile in zone non vincolate lontano dai bordi con equivalenza storico-artistica e che si configurano come degli utenti di una comunità di energia rinnovabile che invece ha gli impianti di produzione in un altro luogo questo rende anche più facile raccontare la potenzialità delle comunità energetiche che hanno anche il grosso pregio di necessitare di competenze multidisciplinari quindi servono dei team di nativi digitali che siano in grado di gestire il dato che siano in grado di accompagnare le diverse categorie di stakeholder che si avvicinano a una visione comunitaria integrata dei processi di transizione quindi tutto ciò chiaramente non risolve intrinsecamente i problemi prima che ho citato che ovviamente condivido ma secondo me dà una nota di ottimismo nel senso che le comunità di energia rinnovabile possono essere considerate come uno strumento organizzativo gestionale di governance che facilita proprio quel coordinamento per l'integrazione che diversamente sarebbe stato molto difficile ottenere anche perché ultima considerazione che faccio una CER da livello di livello normativo è un soggetto giuridico di diritto privato che resta di diritto privato anche se ci sono gli enti pubblici che ne fanno parte quindi vuol dire che nasce una nuova capacità di parnessi pubblico privata che non svincolata ovviamente ma comunque come dire meno vincolata alle problematiche dei procedimenti di evidenza pubblica che spesso rallentano il mondo della pubblica amministrazione soprattutto quella locale grazie Olivero per la chiarezza e la disponibilità a intervenire anche in questo modo un po' lontano aggiungerei una cosa a sottolineatura di quello che diceva c'è un capitolo tra l'altro nel libro di Silvestrini che ne parla ma rifacendomi anche a quell'introduzione di Gianni che ripercorre 50 anni di battaglie sull'energia mi ricordo che quando ma lo diceva anche Fra Costoro prima le energie rinnovabili sono distribuite sul territorio sono diffuse è difficile per qualcuno diventarne padrone assoluto sono un elemento di democratizzazione del sistema energetico però perché la democrazia sia efficace ci deve essere la partecipazione di tutti se no rimane un'utopia rimane uno slogan le comunità energetiche sono questo non è l'unico modo ma aiutano a fare questo partecipare pensate i condomini i proprietari delle case le piccole imprese le rappresentanze dei quartieri i piccoli comuni sono un modo per portare un sistema energetico che una volta era fatto centrale termica trasporto trasformazione distribuzione utente e l'utente aveva solo il compito di firmare il contratto e schiacciare l'interruttore a un sistema dove partecipiamo come prosumer dicono ad architettura come produttori e consumatori ma con un ruolo attivo quindi sono quell'elemento di trasformazione completa del motivo per cui poi nell'altro capitolo dicevo G.P. Zorzoli parla di una visione diversa del modo con cui noi approccieremo e stiamo già approcciando il tema dell'energia allora abbiamo finito il giro di interventi come vedete era un po' autogestito anche il panel meno male così era più vivo però per rispetto nei confronti della sala io vorrei sforare un pochettino i tempi e invitare se qualcuno vuole fare domande approfondire qualcosa dirlo subito e mentre qualcuno alza la mano volevo anche ringraziare abbiamo un microfono in sala? se non lo facciamo venire qua sì c'è un microfono portate volevo ringraziare mentre gli portate il microfono tutti gli organizzatori dei Biennale Tecnologia che hanno supportato e organizzato questa serata e permesso a noi e soprattutto a loro di dire delle cose così interessanti si presenti e faccia la sua domanda sì io mi chiamo Vito Stigliani sono un preside in pensione un preside? sì preside dirigente scolastico come volete chiamarlo voi quello che voglio dire è questo che ringrazio voi per queste novità che ci sono state date soprattutto per quanto riguarda il nostro cammino verso le energie rinnovabili però contemporaneamente mi meraviglia molto perché l'attuale ministro dell'ambiente è un vostro collega sì no è un vostro collega e ha parlato di nucleare e carbone uno poi secondo me nel panel e sarebbe forse stato giusto almeno dal mio punto di vista avere lì un'istituzione tipo la regione e allora mi rivolgo al dottor Silvestrini lei avrebbe potuto dire ecco perché la regione o il comune di Torino per dire per dire non non fanno nulla allora vuol dire che solo la sovrintendenza è pagata da chi per fare quello grazie per le risposte raccogliamo altre domande così poi facciamo le risposte finali collettive e chiudiamo se non ci sono altre domande io intervengo sulla cosa delle sovrintendenze perché è vero le sovrintendenze stanno facendo delle cose incredibili noi abbiamo aree industriali si fa di tutto centri commerciali urbanistica diffusa edilizia incredibile nessuno dice niente fai la cosa innovativa e no quella non va bene deturpa il paesaggio a volte è vero cioè i progetti vanno fatti bene non è che si può fare perché è rinnovabile si possa fare dappertutto bisogna fare un attimo il problema è chi paga e come vengono pagate le sovrintendenze secondo me guardate che in luoghi dove c'è Val d'Orcia un parcheggio d'asfalto e il centro commerciale vicino propone di coprirlo con pannelli fotovoltaici così ombreggio il parcheggio e produco energia elettrica la sovrintendenza si oppone perché deturpa la Val d'Orcia ma il parcheggio d'asfalto e cosa no allora lì bisogna chiedersi cosa succede secondo me succede questo oltretutto la mancanza di culture ritardi culturali tutto quello che vogliamo le sovrintendenze sono state impoverite di competenze di risorse di mezzi da troppi anni allora voi mettetevi nei panni di quelli che stanno lì a lavorare che hanno pile di pratiche da esaminare cosa fanno per mettersi con le spalle al muro e non rischiare dopo di essere denunciati di avere problemi e critiche dicono no a tutto in via preliminare questo è il problema della burocrazia italiana sottodimensionata nei ruoli tecnici questo è importante per questa platea sottodimensionata nei ruoli tecnici sottopagata e con pochi mezzi poi c'è un problema di indirizzo politico e lì lei ha ragione se ho capito cosa voleva dire che c'è un indirizzo politico che va dato anche alle sovrintendenze ma bisogna anche dargli i mezzi gli uomini le professioni giuste Gianni su quest'ultimo tema io devo dire che non è solamente una questione di mezzi è una questione di testa perché le sovrintendenti per esempio sono state abituate a lavorare nel mondo dell'archeologia per loro è una cosa completamente nuova quando gli arriva una proposta di un parco eolico dicono ma perché lo fate sul crinale fatelo sotto io sono convinto che è un problema di far interfacciare diverse culture però c'è di fatto questa posizione che non è solamente mancanza di uomini e mezzi ma è proprio un'impostazione che noi vediamo anche in altri piccoli pezzi della società è micidiale cioè hanno bocciato ci sono tantissimi esempi un piccolo impiantino fotovoltaico in un bacino idroelettrico piccolissimo sperimentale per vedere un po' come andava adesso poi in giro per il mondo ne fanno decini di megawatt sui bacini idroelettrici no la sovrintendenti l'ha bocciato perché si poteva vedere ma un bacino idroelettrico in montagna con l'elicottero lo potevi vedere però l'hanno bocciato questo per mentre la diga no la diga migliorava il paesaggio la diga l'hanno approvato vabbè però non volevo se non ci sono effettivamente altre persone la diga l'intervento in realtà non voleva essere una domanda solo dato che è stato citato più volte lo sciopero di domani la manifestazione di domani volevo solo dare delle informazioni un po' più precise domani ci troviamo in piazza 18 dicembre alle 10 partirà lo sciopero il corteo che poi finirà in piazza Castello eventualmente se per voi è più comodo ci troviamo preventivamente alle 9 davanti all'ingresso principale del Politecnico in Corso Duca grazie grazie soprattutto per Gian Vincenzo per l'attore è il benvenuto dell'appuntamento grazie mille anche lì ecco c'è un'altra domanda laggiù sì salve una cosa riguardo le emissioni di CO2 perché secondo me la crisi climatica è legata soprattutto come avete fatto notare voi che diciamo le emissioni CO2 sono collegate alla demografia cioè più popolazione c'è più emissioni CO2 ci sono e secondo me se non si promuove l'uso rinnovabile per i tre paesi maggiori di emissioni CO2 ovvero Cina India e Stati Uniti cioè se non lo fanno loro dobbiamo promuovere noi all'uso del rinnovabile cioè dico se non lo fanno loro cioè dobbiamo anche aiutare noi a questo come potremmo fare secondo voi anche se è difficile con il discorso del governo Trump che ha rallentato un po' però alla fine domanda interessante però devo dire nel libro troverete tutti i dati il leader mondiale dei rinnovabili del solare dell'eolico dell'elettrico è la Cina ma di gran lunga la Cina ogni anno mette fotovoltaico tanto quanto il resto del mondo e Trump tu hai citato Trump e questo è interessante perché Trump era non crede come alcuni repubblicani nell'emergenza climatica ha cercato di boicottare in tutti i modi le agenzie come l'EPA che è il Ministero dell'Ambiente malgrado questo gli Stati Uniti hanno fatto moltissimo perché perché lì gli Stati per esempio la California New York Oregon così via hanno una loro autonomia poi loro hanno definito hanno addirittura alzato gli obiettivi visto che Trump era critico loro hanno fatto rialzare gli obiettivi anche le città città e stati quindi in realtà in particolare gli Stati Uniti hanno questa realtà molto variegata per cui hai sì il Presidente degli Stati Uniti però esistono realtà locali città stati imprese molte imprese in questo momento vogliono diventare 100% rinnovabili quindi cosa fanno mettono il fotovoltaico dove possono ma poi fanno i cosiddetti PPA Power Purchase Agreement cioè fanno un accordo con chi fa un impianto eolico anche a 1000 km di distanza virtual PPA e comprono energia verde quindi tutte le grandi società americane Google Amazon hanno questi obiettivi di diventare carbon free in tempi molto limitati quindi c'è una vivacità del mondo imprenditoriale e delle realtà statali decentrate che fanno sì che fortunatamente non si interrompa anche se arriva un Presidente che non crede all'emergenza climatica aggiungerei una cosa per il nostro amico Trump è andato al potere è stato eletto sulla base di una serie di slogan tra i quali c'era riaprire le miniere di carbone e far funzionare le centrali a carbone durante i suoi quattro anni di mandato sono state chiuse decine cioè hanno chiuso decine di centrali a carbone perché non convenivano più perché gli investitori non volevano più metterci i soldi e sono passati al gas o hanno fatto le cose che stava dicendo lui quindi è anche la questione dei paesi che oggi hanno che fino ad oggi hanno avuto difficoltà a avere l'energia a portare tutta la popolazione ad eccessa di energia che sono poi tra l'altro quelli dove abbiamo anche la crisi demografica che sembra inarrestabile in realtà sono quelli che possono fare direttamente il salto da zero da bruciare la legna per cucinare ad avere la rinnovabile sul tetto della casa della capanna di quel che l'è e sono anche quelli dove proprio noi voi che vi occupate di formazione possono fare un passaggio importante che è quello dell'istruzione in particolare dell'istruzione delle bambine e delle donne perché il problema della crisi demografica è legato al fatto che ed è una correlazione diretta proprio causa-effetto non solo statistica che dove c'è meno istruzione delle donne e delle bambine si fanno più figli per ovvi motivi perché se non hai istruzione non hai una prospettiva di lavoro di carriera ti sposi presto fai più figli e vabbè lasciamo vedere le battute di Gian Vincenzo sul fatto che che da noi sono troppo istruite e si fanno pochi bambini non è tanto quello vabbè ma lasciatelo perdere è un professore del Politecnico se può capire quindi proprio quei paesi lì sono i paesi più interessanti da un punto di vista delle cose che stiamo dicendo stasera adesso per tornare un attimo seri a un intervento di Roberto Mezzalama così lo presento io grazie così facciamo più in fretta comitato Torino respira sì intervenivo anche come consigliere d'amministrazione Politecnico ma a parte queste battute il volevo spezzare un'altra lancia sulla questione cosa succede nei paesi in via di sviluppo perché non è vero che diciamo c'è l'Europa e poi il nulla faccio alcuni esempi io faccio studi di impatto ambientale ne faccio molti per impianti energiare innovabili ho lavorato in posti come il Mali lo Zambia il Madagascar dove ci sono stati ci sono state iniziative dalla banca mondiale che si chiamavano Scaling Solar per superare una serie di barriere diciamo così economiche e anche istituzionali e portare impianti a fonti rinnovabili in quei paesi lì ci sono dei paesi come dire del Nord Africa in cui ad esempio investe la BERS la BERS dopo che la Russia si è beccata la prima botta di sanzioni ha dovuto cambiare mercato e quindi si è rivolta al Nord Africa c'è un dinamismo enorme in Nord Africa sugli impianti e fonti rinnovabili l'Egitto ha fatto delle cose pazzesche la Tunisia le sta facendo e nel Green Power investe pesantemente in questi paesi per cui come dire il dinamismo delle rinnovabili non è solo una questione europea o nordamericana o cinese ci sono una serie di paesi Zambia, Sud Africa Mozambico stanno cercando di fare degli interconnettori per riuscire a scambiare energia per cui volevo solo come dire portare questo piccolo contributo per dire il dinamismo è veramente globale e il tentativo di saltare la fase dei fossili di cui parlava Beppe adesso in alcuni paesi è molto ben presente ad alcune autorità dico solo una cosa in più faccio due esempi abbiamo lavorato in Kosovo su un impianto eolico che è stato approvato e finanziato in poco più di 18 mesi non dirlo a Rebao vengo ok abbiamo lavorato in Mali dove un impianto fotovoltaico che poi si è bloccato per un problema finanziario ma è stato progettato e autorizzato in meno di 20 mesi ci sono tutta una serie di voglio dire di esperienze fatte in paesi di cui noi non immaginiamo neanche in cui le cose vanno molto più velocemente di come vanno in Italia e questo dinamismo qui in realtà secondo me andrebbe riconosciuto e anche messo dico un'ultima cosa molti di questi progetti vanno avanti anche perché c'è un attivismo della cooperazione internazionale in questo senso l'agenzia danese per lo sviluppo l'agenzia francese per lo sviluppo l'agenzia tedesca per lo sviluppo gli italiani non si vedono mai io non vedo mai gli italiani partecipare a favorire questo genere di sviluppo internazionale tra l'altro una cosa interessante rispetto a un dibattito che sollevava anche il preside l'ex preside prima qui in Italia si parla di transizione come potenziale bagno di sangue dice quel ministro lì a cui faccia riferimento lei quei paesi lì hanno altri problemi che noi non abbiamo per fortuna però loro non hanno i problemi che avremmo noi che avremmo noi nel senso che potendo fare il salto subito all'innovazione non hanno i costi della transizione hanno meno costi della transizione è interessante una battuta finale all'autore salve io volevo solo dire a proposito di collaborazione a proposito di Italia io faccio parte di un nuovo dottorato è un dottorato interdipartimentale il primo in Italia e infatti si chiama sviluppo sostenibile e cambiamento climatico siamo 100 dottorandi in tutta Italia divisi in svariate università italiane e la sede centrale e poi via siamo distribuiti però da nord a sud e siamo divisi per curriculum davvero abbiamo in questo caso sono un chimico sono laureato in chimica ma ci sono svariate figure abbiamo i medici ci sono dei giuristi quindi vediamo il cambiamento climatico sotto svariate sfaccettature quindi c'è effettivamente un movimento anche in Italia e volevo giusto puntualizzare questo che non è vero che l'Italia non si muove si sta muovendo e noi probabilmente siamo anche il futuro grazie 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 l'ultima perché poi dobbiamo chiudere sì vorrei sapere quale sarebbe il ruolo dell'energia geotermica in in prospettiva energetica visto che potrebbe anche essere considerata come una fonte rinnovabile leggermente più costante rispetto al solare e l'eolico sì allora Gianni Silvestri sì rispondo a quest'ultima domanda poi faccio una riflessione di carattere generale che coglie le ultime sollecitazioni l'energia geotermica in Italia è stata tra le prime nel mondo anzi da prima a produrre l'energia geotermica gli scenari che si fanno per l'Italia come anche per il resto del mondo ma in particolare per l'Italia parlo di una crescita moderata cioè il raddoppio 2050 c'è una possibilità di avere invece un salto veramente notevole di utilizzare l'energia geotermica se avesse successo cosa su cui però si lavora almeno 30 anni senza successo cioè riuscire a fare dei pozzi molto profondi e quindi a intercettare calore in profondità quindi se questo dovesse avere successo allora il potenziale geotermico si allargherebbe notevolmente dicevo facciamo una riflessione finale che si connette proprio alle cose che sono state dette sulla generazione distribuita perché io a un certo punto tratto proprio questo che è un tema molto dibattuto nel mondo di chi si occupa di rinnovabili e degli ambientalisti e cioè il tema tra generazione distribuita e generazione centralizzata io mi sono fatto l'idea che la generazione distribuita è centrale perché tu hai c'è un significato anche è stato detto sociale di chi si sente protagonista del cambiamento questo è importantissimo e poi sono meno posizioni locali è sicuramente prioritaria la generazione distribuita e c'è un potenziale enorme detto questo se si fanno poi i calcoli con i target che abbiamo dal 2030 e soprattutto 2050 che fra 30 anni 29 anni 28 anni si vede che noi per raggiungere quei numeri non possiamo fare solamente con le generazioni distribuita dobbiamo pensare anche a impianti centralizzati con un ulteriore elemento in più impianti centralizzati con la possibilità di scambi non solo a livello nazionale ma sovranazionale è stato citato prima Danimarca Danimarca in effetti ha molte giornate in cui ha una produzione eolica più del 100% della domanda e cosa fa Romanda appunto in Norvegia che hanno dei sistemi dei bacini in cui possono accumulare energia elettrica addirittura si stanno facendo dei progetti per esempio in Marocco con centrali solari eoliche e poi con un elettrodotto che va in Inghilterra un altro in Australia un altro in parchi solari eolici e poi un elettrodotto che va a Singapore quindi c'è una concezione di scambi di energia anche su larga scala come vanno considerati se sono appunto rientrano in una ottica di andare verso un mondo carbon free entro 2050 cioè soddisfare gli obiettivi di Parigi e poi quelli che sono destinati a Glasgow è chiaro che bisogna usare tutti i mezzi che si hanno quindi avere la possibilità di avere anche il contributo di parchi eolici di grande scala centrali solari di grande scala e usare questi contributi credo che questo equilibrio tra distribuito e centralizzato sia uno dei punti più delicati che vanno affrontati in termini di policy di politica a livello nazionale e sovranazionale sovranazionale e quindi questo è un altro dei temi che ho trattato e che metto appunto sperando che ineschi un dibattito una discussione soprattutto nel mondo ambientalista che per esempio su queste cose è abbastanza cauto però appunto bisogna vedere esattamente i grandi numeri dove vogliamo andare un'ultima cosa l'Italia il governo italiano ha presentato come tutti i governi europei la propria long term strategy questa che non più di un anno e mezzo fa a gennaio del 2021 e cosa viene fuori che la produzione di energia elettrica dovrebbe raddoppiare rispetto all'attuale raddoppiare perché perché c'è la mobilità elettrica pompa di calore così elettrificazione che avanza e la cosa interessante è che metà di questa produzione elettrica dovrebbe venire dal solare cioè il solare dovrebbe produrre più di quanto oggi producono tutte le centrali in Italia cioè 320 teravattore ecco quindi noi dobbiamo considerare non solo gli obiettivi 2030 che sono già sfidanti perché è arrivato dal 38% al 72% con un'Italia che ha fatto niente negli ultimi otto anni è sfidante ma guardiamo guardate che c'è un target che è oltre il 2030 che è l'obiettivo finale del 2050 è di tutti i paesi che vogliono diventare carbon neutral ecco quindi bisogna definire strategie con una visione di lungo termine ultima cosa tutto questo discorso riguarda anche il fatto di puntare a una reindustrializzazione green l'Italia ha perso industria negli ultimi 10-20 anni questa è una grande occasione con il PNR ma anche oltre per creare industrie che fanno elettrolizzatori batterie autobus elettrici autoelettriche paleoliche e così via è una grande occasione perché noi non dobbiamo solamente mettere soleol e vento ma dobbiamo anche creare quell'ossatura che ci consenta poi di in questa transizione di avere un ruolo di protagonisti non solamente di chi installa ma chi produce da questo punto di vista nel PNR ci sono risorse per fare c'è una fabbrica fotovoltaica dell'Enel a Catania che produce capacità produttiva a 200 MW all'anno nel giro di due anni vogliono passare a 3000 MW all'anno capacità produttiva comincia a essere una cosa abbastanza seria ecco quella è una direzione reindustrializzazione green che vale soprattutto secondo me per il sud Italia che è una grande occasione basandosi sulla reindustriazione green è notizia di oggi che a Termoli finalmente faranno una gigafactory di batterie 2 miliardi di investimenti e quindi anche quello è un altro segnale che va in questa direzione grazie grazie a tutti grazie a tutti